Il famigerato trattato di Cayenne, ma il ratificato dell'Italia con il quale la nostra nazione di fatto dovrebbe cedere alla Francia, vaste porzioni di mare, fra cui quella del ponente Ligure, particolarmente evocata la pesca del gambero, torna al centro della battaglia politica. A farsi avanti sono in particolare gli esponenti della Lega, in testa il parlamentare ventimigliese Flavio Di Muro, che ha presentato l'interrogazione in Parlamento. Il trattato, che Di Muro definisce sciagurato, fu sottoscritto nel 2015 dal loro ministro degli esteri Gentiloni, oggi chiamato a rappresentare gli interessi italiani in Europa, e il dirigente del ministro degli affari europei a Mendola, pare non abbia escluso che possa essere ripreso e ratificato. Di Muro ha evidenziato che durante la scorsa legislatura sono stati presentati numerosi atti di sindacato ispettivo, sia la Camera che al Senato, anche su iniziativa della Lega, che hanno sollevato le profonde perplessità sulle conseguenze dell'accordo di Cayenne, che di fatto regalerebbe alla Francia una porzione di mare, proprio davanti alla costa Ligure, in un tratto pescoso e famoso per gli apprezzati gamberoni di Sanremo. Per questo, Flavio Di Muro ha evidenziato che la Lega si opporrà con forza alla ratifica di questo accordo internazionale.